Il cratere Grimaldi, che è il più scuro sulla destra, poi l'oceano delle tempeste, il mare delle nubi, e qui sotto il cratere Tico, con la raggera splendida, che si estende per tutta la luna, arrivando fino alle estreme propaggini del mare della fecondità, della serenità e della tranquillità. E qui sopra abbiamo a sinistra il mare delle crisi, in alto, qui al centro adesso, il mare è un voltiano che è al bordo, all'estremo lembo lunare, e questa è la regione del polo nord. Il punto più luminoso, qui sulla destra, ora al centro, è Aristarco, nell'oceano delle tempeste. Questi due crateri a raggera sono Cheplero e Copernico. La luna piena nella notte tra il 29 e il 30 settembre, se non è 5 del mattino. ora legale. Ora legale. Lui.